esatto allora racconti un po da quando sei svegliato stamattina da una narrazione da quando mi sono svegliato stamattina è passata l'ottima barbara a buon tempio a prendermi a casa tutta quanta impaurita ma cosa hai fatto ma sei un criminale faccio mamma guarda stai tranquilla non ho ucciso nessuno per il momento che è successa la classica cosa che è successa pure a me pure a gianluca credo che i carabinieri a casa bravo no ma è successo ancora peggio perché praticamente sono andato a casa di mia madre che è la mia residenza non so perché non sono venuti al mio domicilio vanno alla residenza non hanno trovato poi si presentarono a casa di mia gente residenza mia madre non c'era vanno dal vicino quindi capirai cominciano le varie voci di corridoio del bbt infatti mia madre subito stamattina quando mi è venuta prendere però adesso glielo dico eh perché comunque la privacy perché sono andati dal vicino ha fatto mamma non ti preoccupare poi spiega spiega ai tuoi vicini la storia insomma non ho fatto nulla di grave fa parte insomma degli imprevisti del mio lavoro vabbè comunque ma che hai fatto questa volta davide ha fatto mamma non ti preoccupare sarà sicuramente una cazzatina una diffamazione una lite temeraria cose che succedono nel nostro lavoro però se vuoi andiamo insieme tanto la caserma è dietro casa di mio madre infatti penso siano andati da lei anche perché è praticamente a 30 secondi da casa sua il figlio della buon tempio un criminale esatto vabbè quindi mi sveglio tutto a posto funzioni fisiologiche sempre un po rallentate causa prostatite ma in miglioramento vado lì arrivo molto cordiali salve così cosa salgo faccio mi dica guarda adesso devi compilare insomma i soliti i soliti fogli quindi parla italiano comprende italiano vuole nominare un avvocato altrimenti le sarà affidato un avvocato d'ufficio buttamo gli estocroari certo cerchiamo la pecca dell'avvocato cose di questo tipo ok allora vi dico solo che la denuncia praticamente è per il seguente reato articolo 167 codice della privacy trattamento illecito di dati ok infatti inizialmente ho detto ma in che senso essenzialmente ragazzi ma diciamolo diciamolo i dati che avete dato quando avete acquistato i biglietti o di ogni celbero party dobbiamo ammetterlo sono stati da noi messi in un in una roccaforte virtuale e adesso saranno stati insomma a nostro piacimento potremmo fare degli acquisti a vostro nome utilizzare la vostra immagine come meglio crediamo per questo pagheremo le contribuenze insomma pagheremo il debito con la legge però ragazzi ormai quel che è fatto è fatto a o e vai al soto vado al soto quando cazzo mi pare vabbè tra l'altro molto gentile questo ragazzo mi fa qua c'è scritto twitch.tv ma io seguo ogni tanto twitch seguo paolo cannone perché praticamente c'era scritto solo questo punto contestato quest'articolo contestato e diciamo il reato commesso presso twitch.tv fanno io seguo paolo cannone solitamente league of legends faccio ah sì sì è un mio amico ok ok vabbè essenzialmente ragazzi chi è adesso ho mandato l'avvocato dai ci siete arrivati anche voi chi è che ci ha rotto i collioni anche su youtube mandando segnalazioni per privacy improprie non è ad inolfi ma infatti io inizialmente pensavo ad inolfi ma troppo presto è proprio lui il presidentissimo il presidentissimo che giustamente ha deciso di rompere le scatole alla giustizia far perdere tempo ai tribunali italiani alle forze dell'ordine per una contestazione di privacy in relazione alle sentenze mostrate ed ha denunciato solo me perché sono stato io di intervistare giba e giba ha mostrato la sentenza di condanna del buon press tra l'altro ho sentito anche germano però c'è una cosa particolare che comunque non ti è stato detto alcun nome no non è stato detto il nome perché penso lui abbia semplicemente proprio per te la brava e penso lui abbia depositato la denuncia per privacy però il fatto che abbia allegato twitch tv praticamente confrontandomi con germano milite ho praticamente associato immediatamente al suo nome perché a germano qualche mese fa è arrivata nella stessa maniera però per diffamazione ma scusa ma non si dice sempre chi cia degli pseudonimi c'è sempre qualche remora a denunciare perché nel momento in cui denunci al denunciato arriverà il tuo nome e cognome quindi tanti non fanno denuncia per questo scusa come ha fatto a farla in maniera anonima no adesso praticamente manderanno direttamente a croari tutti i dettagli però questo è praticamente lo step uno che devi fare non mi ricordo come si chiama adesso qualcosa di domicilio elezione di domicilio esatto quindi lo step principale ti dicono soltanto l'articolo dell'indagine e altre informazioni come questa cioè a loro non è arrivato il nome cioè io gli ho chiesto hanno detto no no noi abbiamo ricevuto solo questo poi tutte le altre informazioni le manderanno all'avvocato però sicuramente il presso perché le modalità sono state identiche a quelle di germano però nel suo caso diffamazione quindi là il nome gli hanno detto ovviamente nel mio caso evidentemente non avendo proprio basi per la denuncia per diffamazione ha detto buttiamo così una privacy una privacy goliardica è anonima quindi si può fare anche una denuncia anonima no cioè che io in generale dico no me so infatti quindi questo sarà soltanto step uno è un certo punto poi quando i dati arrivano all'avvocato non è che puoi continuare a non sapere chi ti ha denunciato quindi è anonima per poco sì ma io faccio un piccolo quiz musicale e chi indovina vincerà il vip ok grazie per la sabra c'era un gruppo una boy beva la butto la una boy band diceva step one we could have lots of fun step two there's so much we can do step three you can hold on me step four i can give you more 6.000 e 9 mesi no quindi ragazzi niente dai la giornata è partita la grande alla fine è arrivata la mitica denuncia tramite la repubblica di roma sono contento e penso insomma che verrà archiviata nel giro veramente di poco però spero il contrario cioè spero che si presenti in tribunale certo questa cosa non vada solo per avvocati ma che finalmente si vada nel merito no che magari venga semplicemente archiviata ma sì ma anche perché considera che ripeto lui ha contestato questa roba della privacy in relazione alla sentenza mostrata da gibba nella testimonianza corregistrato no perché a differenza di altre tipo quelle che avevamo mostrato in live con germano che erano pubbliche quella è stata mostrata dal denunciante cioè da gibba ok la sentenza l'avevamo già detto per truffa in alcuni casi prescritta in altri casi invece condannato il buon sapa e quindi ha detto facciamo sta roba di privacy buttiamola lì semplicemente verbo intimorire far perdere tempo poi i tempi della giustizia lo sappiamo sono lunghi quindi penso lui l'abbia fatta mesi e mesi fa se questo infatti ad inolfi mi sembrava un po troppo presto è un po repentina come 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 denuncia rega appena in bocca in tribunale gli regalano pagare avvocati pagare chitano tra l'altro ragazzi da oggi non ci sarà più un marco chitano come vedete non c'è regia no more chitans come vedete è diventato invisibile come stai si è ripreso un po meglio detto questo sapremo tra tra mesi l'esito però ovviamente non sono minimamente preoccupato che si tratta di un di un tentativo che ormai conosciamo molto bene sì sì non intacca solo una rottura di palle essenzialmente mi ha fatto perde un paio d'ore stamattina e pace quello è poi ho detto a mia madre ha detto ha visto purtroppo non te potrei vantare con le amiche di avere un figlio criminale la cica mala barbara ma dalla prima volta che ti vengono i carabinieri a casa proprio tu già diventi un po' criminale infatti te senti un po' più capito gang shit grazie lady potresti tatuare adesso la lacrima nera sotto all'occhio una lacrima sul viso grazie a tutti grazie a tutti